Volevo dare un tono più popolare, più colloquiale, visto che è scritto Giacomo Puccini è di Lucca, limitiamoci a dire quello che Puccini scrisse e disse, eccoti la porcherietta, che i telegrafisti al suono di questa marcetta arrivino presto alla tensione. Il lavoro, di breve durate, dal carattere leggero, ironico, che sembra quasi stridere con la dedica all'illustre accademico Alessandro Volta, è scritto per pianoforte. Ma fu lo stesso Puccini a volere che fosse successivamente strumentato per banda dal maestro Serrao. Caratteristica di questa nuova orchestrazione ad opera del maestro Crow è quella di evidenziare, attraverso continui cambi di colore strumentale e inaspettati interventi delle percussioni, l'aspetto brillante e scherzoso di questa pagina, quasi a dipingere, concretamente, l'effetto indicato dal titolo. Signori e signori, la filarmonica Capezzano-Monte, diretta dal maestro Marco Pausquini, Scossa elettrica! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo appena ascoltato Scossa elettrica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.